Nino D'Angelo Ma fammi la videoteca Nino D'Angelo qua Buongiorno Buongiorno Quanto serve? Eh vuole essere una cassetta di Nino D'Angelo? Eh si, tu solo quella di... Eh per forza, se no ci chiamiamo la videoteca Nino D'Angelo Allora ti dici l'ultimo arrivo eh questa questa che è bella sacca Nino D'Angelo protagonista c'è un titolo Colpo Grosso a Chinatown Ma quello è un film che è Kurt Russell? Nino D'Angelo Ma ti dici la storia Stai esso che sta a Chinatown che mangia un riso E perchè? Perchè è dell'anemia Il dottore l'ha detto che ti mangia un riso perchè il riso fa buon sangue Poi esso va intorno a un nightclub cinese e canta mo che torna dalla Cina e faccia tutto quanto a Mappina E stanno i signorini che fanno spogliarello Nino D'Angelo canta una canzone a sex Hardcore a core ci chiede Un malamento fa a Emilio Fede che da quando c'è fatto il lifting ora te l'ho chiamandolo come i genesi 10 euro E pochetti? E poi stai qui stavate che è arrivato a mamma Questa è la storia di Nino D'Angelo che aveva povero e poteva assemblarti e aveva ammazzare le lecche che sorge Ma Nino D'Angelo non è napolotene? E' una di San Zavio Un giorno Nino D'Angelo in due film fa 13 e 8 calci e ce ne parte per la terra dei sogni I Maldivi? No, torre fortuna Ci chiedono la villa che pescino l'Imbione che è il 77 doberman Ci prendono 5 uomini che ci passano la notte di giorno tutte le sere alle 21 e 30 Domenica pomeriggiana, lunedì riposo Nino D'Angelo fa un concerto nella villa a sé Il pubblico ci portano da San Zavio e i pullman che fanno un giro turistico Cioè San Zavio, Santa Marca, Padropaia, Apricene, Ripalto, Torrefortura dove c'è la villa di Nino D'Angelo E Nino D'Angelo spie la vita di San Bernardino di tutti i suoi poveri e canta la canzone Cucazzo Catorno E come ci chiedono il film? La vita è bella, 10 euro Ma... non c'è qualche film più di sparamento? Sì, questo qua che parla della Coop C'è Nino D'Angelo che canta la canzone E Paiate 2 e 4 e 3 In due film Nino D'Angelo è innamorato da una cacciaire della Coop che la vogliono licenziare perché ci stanno troppo forti e esserci ne accorgono Solo che non possono licenziare E perché? Perché ci chiedono Assunta Nino D'Angelo fa di pulire la Coop Ma però fanno una rapina e sparano una centenaire di colpi in colpi Che lo fanno tipo a scuola maccarina Lo portano in l'ospedale e lo giustano Gli levano i fengati e mettono una cestella della lavatrice Rex A posto dei capelli mettono una moccia velita A posto dei polmoni mettono due casse montare per 50 più più di 50 E ho posto da Mills in un masterizzatore DVD E ho mettono una tavola a fatiare la Coop come vigilante robot stereo E lo chiamano Robo Coop E esso in capo tutti i mariuli e struppi di mazzetta Tutti i signori che ci fregono i punti di granareuli E lo soppolato in carta qui E chi fa malamente? Una bomber che mette i pescevonelli in due yogurt Ma Nino D'Angelo vince sempre Puro con una bomber 10 euro